Grazie. 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 Salunificio Riva Moldeno, numero 55 è Stefano Loso, numero 32 è Lorenzo Beretta, numero 11 è Andrea Bramilla, numero 20 è Andrea Dall'Andio, numero 36 è Edoardo Pellotto, numero 8 è Lorenzo Galizia, numero 28 è Lorenzo Galizia, numero 40 è Marco Prezzeric, numero 9 è Giovede Nella, numero 97 è Gabriele Valle, numero 6 è Giacomo Redelli, numero 26 è Saurone Riva, numero 43 è Daniele Soldi, numero 14 è Carlo Sperti, numero 70 è Aleksandar Puginic, numero 5 è Daniele Zanonelli, di Pachina Salvatore Onelli, Dirigono la gara ai signori Luigi Regalia e Alessandro Greco, buona partita a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 C'è stato un problema che la rete è andata giù, la rete è altissima, e il tipo, Non fermavo, adesso non andiamo a vedere, non andiamo a vedere, non andiamo a vedere. Vedi, vedi, è un'altra rosso. Grazie. Dai, dai, dai! Dai, dai, dai! Dai, 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 dai! Dai, dai, dai. Va bene, facciamo un filo! Dai, dai, dai! Vado, vado! Dai, dai, dai! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti